Quari nero azzurri, una buonasera da Roberto Scharpini collegati con lo stadio Meaz, pronti per il quarto di finale, gara secca. Attenzione a Diaz, difende palla, la gioca sulle aula, veloce con Teo Hernandez che va dentro, palla al limite, buona questa trama e la palla che sfiora il palo. Sanchez, facciamo girare bene, 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 bene per Barella, Darnian solo da questa parte, ecco lo servito, può puntare Teo Hernandez, l'uno contro uno, vediamo, cerca di andare il palone dentro, servito Lukaku che prova a girarsi, attenzione, il tiro, la parata di Tataruzanu. Supera il pallone ma un po' corto da lotta, allora Barella va al disturbo, il colpo di testa di Darnian, poi quello di Meite, Ibraimovic, limite dell'aria, carica al destro, palo gol, incredibile. Rivediamola quest'azione, il colpo di testa difensivo, poi Ibraimovic che si allarga ed è bravo a gestire questo pallone. Il colpo di testa di Meite, vedete che si allarga e incrocia, Barella, scappa via Sanchez, palla lunga dietro, colpo di testa, palla per Lukaku che appoggia, per Vidal che prova ad andare al tiro, allarga per Peris, abbiamo perso l'attimo, il cross morbido, Sanchez, doppio salvataggio sulla linea, fuori Darnian, dentro Ashraf, Hakimi, cerca di andare dentro, Paello l'1-2 con Sanchez, guadagna al fondo, cross, Sanchez, ancora Tataruzanu, Ancora in corner numero 6, palla buona per Sanchez, Brozzo, di prima per Barella, può vedere la porta, attenzione, allarga per Hakimi, Ashraf, carica al destro, il cross, Lukaku! Ancora in salvataggio, in calcio d'angolo, ancora pericolosi ragazzi, bello questo taglio, Hakimi, palla per il Nigno, attenzione Sanchez, il cross, a cercare Vidal, il colpo di testa del guerriero con la palla che termina alta, la palla servita a Kolarov, attaccato da Ibrahimovic, cerca di andare, Kolarov, fallo di Ibrahimovic, dovrebbe essere ammonito, dovrebbe essere ammonito, e allora Andersen, vediamo, rosso, espulso Ibrahimovic, pallone per Sanchez, ancora fuori per Hakimi, con Barella servito, guadagna al fondo, è rigore, è rigore! Riclamano il calcio di rigore i nostri per un atterramento di Barella, Valeri fa giocare, tutti protestano, rivediamo, è rigore tutta la vita, è rigore, ma clamoroso è rigore! Parte Lukaku, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, Luca, Luca, Lukaku, uno a uno, uno a uno, il calcio di rigore, che spiazza Tatarusano, rivediamola, l'entrata netta, con cui Raffaele Aogli prende il piede d'appoggio, e poi la botta di Lukaku che manda il pallone sotto la traversa. Attenzione Lautaro, va da solo, il cross al centro, palla deviata, Kolarov arriva dalla parte opposta, il contro cross, palla che gli rimbalza ad osso, ancora palla viva, ancora Sanchez, che potrebbe tentare la giocata, palla fuori, cerca Achimi, il tiro, è la parata di Tatarusano. Verticale per Achimi, bello il tocco per Sanchez, è un po' lunga, che si è in vantaggio, ma regala la palla a Lautaro, che se ne vada solo, Lautaro, Lautaro, il tiro, la parata di Tatarusano, occasionissima. Skriniar ed Evrai che ricevono il pallone e appoggia esternamente per Kolarov, che la mette di prima attenzione per Lautaro, Lukaku, Lautaro, Lukaku, miracolo di Tatarusano, il miracolo, palla ancora viva, Lukaku, Lautaro, il suo piattone, trova una grande parata, la tocca corta per Hernandez, il pallone per Meite, Lautaro glielo porta via, cerca e c'è il fallo, e c'è il fallo, e c'è il fallo su Lautaro, commesso da Meite. Parte il fischio, Eriksen, tiro. Che pennellata, guardate, quando ti arriva una punizione così devi solo battere le mani, se sei un portiere devi solo battere le mani agli avversari, devi solo battergli le mani, devi solo far questo. E l'abito dice che è in semifinale, ci va l'Inter, l'Inter vince il derby per 2 a 1.